In questa serie di webinar vedremo come applicare in modo efficace la metodologia del debate allo studio della lingua e della letteratura inglese. Why debating controversial issues in English literature? Lo faremo utilizzando il format car popper e vedremo assieme come passare dalla lettura della pagina di un romanzo all'organizzazione di un debate vero e proprio, prima attraverso attività preparatorie in asincrono in piattaforma Scrivipub e poi in modalità sincrona con la registrazione del debate vero e proprio in Google Meet. Inizieremo dalla costruzione della mozione e i nostri debaters dovranno dimostrare come, ad esempio, Wolff's Stream of Consciousness Technique Under Moments of Being embody the age of anxiety better than Joyce's epiphanies. Analizzeremo assieme i file audio prodotti dagli studenti, utilizzeremo le diverse strategie, ma lavoreremo soprattutto sulle tematiche evergreen che la letteratura inglese e lo studio della lingua ci offrono. Grazie e a presto!